Circularity nasce con l'idea di creazione di una piattaforma che aiuta i produttori di scarti, le aziende produttrici appunto di scarti, con chi invece riesce a valorizzare questi scarti, quindi dare nuova vita e materia prima seconda. Quindi è una piattaforma di simbiosi industriale tra le aziende di vari settori, tessile ed ile e gli scarti di questi e la riutilizzazione e la remissione del ciclo produttivo di questi scarti per dare nuova vita, quindi un'economia circolare a 360 gradi. Inoltre l'azienda non si occupa solo di questo, ma è anche promotrice di una cultura della sostenibilità, quindi aiuta anche le altre aziende a diventare più sostenibili, aiutarli nella stesura di un piano strategico di sostenibilità e nell'interazione delle tematiche della sostenibilità all'interno del proprio modello di business attraverso piani strategici e anche bilanci, quindi anche la rendicontazione di quello che fanno e dell'impegno che hanno verso l'ambiente, verso il pilastro sociale, anche economico e proprio stakeholder.